A nome dei 113 sindaci e amministratori di Lazio Abruzzo impegnati nella battaglia posso dire che manteniamo alta l'attenzione sulla vicenda, anche alla luce delle ultime decisioni del TAR e del Consiglio di Stato. Non vogliamo entrare nel merito di questi provvedimenti perché abbiamo fiducia nella magistratura. Sicuramente le nostre richieste e la nostra battaglia saranno sempre le stesse, quindi chiediamo un ecopedaggio e soprattutto la sicurezza delle autostrade. Questo indipendentemente da chi sarà a gestirle. Così il sindaco di Carsoli, Veglia Nazzarro, che da tempo porta avanti la battaglia contro l'aumento dei pedaggi e per chiedere la messa in sicurezza delle due tratte autostradali che collegano Abruzzo e Lazio. Il 1 agosto il Consiglio di Stato ha riaffidato all'ANAS la gestione di A24-A25 che per oltre 20 anni sono state gestite da Strada dei Parchi. Intanto la società del gruppo Toto, nonostante abbia perso il secondo round della battaglia legale con il governo, ha deciso che le opere già cantierate per l'A24 saranno regolarmente eseguite. Nel frattempo prosegue la battaglia legale iniziata lo scorso 7 luglio, quando il Consiglio dei Ministri ha revocato con un decreto legge la concessione a Strada dei Parchi per inadempienze contrattuali. Il governo ha affidato contestualmente la gestione delle due autostrade ad ANAS. Strada dei Parchi ha subito presentato ricorso al Tar del Lazio che il 12 luglio ha revocato la sospensione della concessione e fissato l'udienza di merito per il prossimo 7 settembre. La risposta del governo non si è fatta attendere ed è arrivato il contro ricorso dell'Avvocatura di Stato e una seconda ordinanza del Tar il 28 luglio che ha confermato la sospensiva della revoca. Quindi concessione dell'autostrada 24 a 25 alla società Strada dei Parchi e udienza di merito fissata per il 20 settembre. E lunedì 1 agosto la decisione del Consiglio di Stato è stato accolto il nuovo ricorso dell'Avvocatura di Stato contro l'ordinanza del Tar del Lazio del 28 luglio e i giudici amministrativi di secondo grado hanno riformato la decisione di primo grado e annullato la sospensione della revoca affidando la gestione dia 24 a 25 ad ANAS in attesa dell'udienza di merito del prossimo 20 settembre. Senza dimenticare che un emendamento al suddetto decreto legge dispone la revoca della concessione a Strada dei Parchi ma cancella anche l'articolo dello scudo erariale di cui ANAS avrebbe beneficiato per esperire in tempi veloci e senza il controllo preventivo della Corte dei Conti gli appalti per la messa in sicurezza delle due autostrade. A ciò si aggiunge anche la clausola sociale votata dal Senato che impone ad ANAS di riassumere circa 1000 lavoratori di Strada dei Parchi che dovranno conservare lo stesso contratto che li legava al gruppo Toto.